A Cagliari via libera definitivo da parte del comune per l'apertura di un nuovo supermercato, l'ennesimo nei fatti. Siamo in pieno centro tra il Tribunale dei Minori e i campi sportivi dell'ossigeno. Ci troviamo nella via Dante, quasi all'angolo con la via De Giovannis. Dopo un ITER, durato qualche anno, oltre due, una società di Villa Cidro è riuscita ad avere per l'appunto la firma definitiva, quella che mancava per l'apertura nei fatti di un supermercato che da progetto sorgerà qui al piano terra di questa struttura e ci sarà anche la possibilità di vendere alimentari. Nel progetto prevista anche l'apertura di un locale, come si legge appunto nelle note ufficiali, dedicato alla somministrazione di bevande. Un pacchetto dunque che ha a che fare col commercio, con l'apertura di un nuovo centro commerciale, meglio un supermercato in pieno centro a Cagliari, nel progetto però sono previste anche altre due opere ancora da realizzare, ovvero la creazione di due aree verdi di molte centinaia di metri quadri e poi anche 99 parcheggi che potrebbero forse contribuire ad allentare la morsa della carenza di stalli, soprattutto in centro città.